Il GUP del Tribunale di Agrigento ha condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione il trentunenne licatese Angelo Vitali. L'uomo, che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, è stato riconosciuto colpevole dei reati di omicidio colposo plurimo, lesioni personali gravi e rifiuto di sottoporse ai controlli alcolemici. La sentenza di condanna scaturisce dal tragico incidente stradale verificatosi la sera del 17 giugno 2011 lungo la strada statale 115 e nel quale persero la vita le sorelle Alessia e Chiara Bruna, rispettivamente di 9 e 3 anni. Le bambine viaggiavano con la mamma, la signora Angela Camilleri, a bordo di una Renault Clio. Angelo Vitali, invece, era alla guida di un SUV BMW X5. Nello scontro, la piccola Chiara morì sul colpo, mentre il cuore della sorella maggiore cessò di battere poco dopo all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata, dove era giunta in gravi condizioni anche la madre, che fortunatamente è sopravvissuta all'incidente. Nel processo svoltosi al Tribunale di Agrigento, la famiglia Bruno Camilleri si è costituita parte civile.